Cos'è questo brano che ti trovo qua a fare sotto quest'albero che sta mettendo le gemme in questa quasi primavera? È una elaborazione di un brano per Cornamusa scozzese che faccio al violino e sono qui sotto un albero, un po' in questo rifugio creativo perché c'è bisogno di un'ispirazione per fare anche qualche cosa che sia in tema con questa competizione agonistica o amatoriale comunque di questi ciclisti. che fanno queste salite, queste discese, queste corse che ci vuole dei polpacci. E cosa hai detto te lo sai, perché io non sono sicuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.